Il nostro progetto ANAGBAR, che è un acronimo che si scioglie con l'anatomia dei grandi bronzi d'arte del Museo del Bargello, ha visto coinvolti gli enti del Museo Nazionale del Bargello stesso, la Scuola Normale Superiore di Pisa e il NEST, che è un importante centro a livello mondiale ed europeo sulla ricerca sulle nanoscienze e la nanotecnologia. Diciamo che gli obiettivi del progetto era di avere una maggiore conoscenza di una parte della collezione del museo, in particolare quella delle sculture in bronzo, che fino ad oggi non è mai stata seriamente indagata né da un punto di vista scientifico né da un punto di vista storico-artistico. L'obiettivo era appunto riuscire per avere una maggiore comprensione delle opere, creare un dialogo continuo e quotidiano tra una metodologia umanistica e una metodologia scientifica, ovvero tra un approccio storico-artistico, nelle persone mie e dell'altra sinistra, Marco Scansani, e nell'approccio tecnico-diagnostico impersonato da Teresa Bruni. Questo dialogo aveva ovviamente lo scopo di riuscire a fornire delle nuove chiavi di lettura e anche dei nuovi strumenti interpretativi per appunto, non soltanto per la collezione del Bargello, ma con uno scopo più ampio per i futuri studi di questa disciplina, di questo settore di ricerca, poiché lo studio dei bronzi rispetto ad altre, diciamo così, indagini sulle opere d'arte, come possono essere i dipinti o le sculture in marmo o in legno, scontano ancora una grave arretratezza. In particolare noi abbiamo, ci siamo concentrati su 160 bronzetti, cioè piccole sculture di bronzo, su un numero complessivo di circa 700 manufatti delle piccole opere d'arte eseguite tra il XV e il XVI secolo e per ogni bronzetto sono state appunto fatte delle indagini storico-artistiche, archivistiche documentarie, anche per aggiornare o modificare la bibliografia esistente sul pezzo oppure per creare delle nuove ipotesi iconografiche, stilistiche o della paternità e ovviamente c'è tutto anche un lato parallelo di ricerche documentarie archivistiche per riuscire a capire la storia di questi oggetti, quando sono arrivati nella collezione del museo e ovviamente tutta la loro storia precedente che può appunto in alcuni casi, come vedremo, risalire addirittura al primo collezionismo dei medici qui a Firenze. Dall'altro lato sono state fatte in contemporanea delle indagini tecnico-diagnostiche da Teresa per comprendere più a fondo la tecnica di realizzazione di questi oggetti e soprattutto lo stato conservativo attuale o le sue vicende conservative nel corso del tempo perché ovviamente sono oggetti molto piccoli quindi sono stati spostati molte volte anche all'interno delle varie ville medice e quindi abbiamo dovuto un po' anche fare i conti con degli interventi che non erano stati segnalati ma che evidentemente gli oggetti recamano traccia. Tutto questo è confluito per ogni oggetto in una scheda catalografica di tipo tradizionale divisa in due parti, una tecnico-scientifica e una storico-artistica e che andrà poi ovviamente a integrare il catalogo generale del museo a cui si sta lavorando da qualche anno che non abbiamo ancora deciso ma probabilmente sarà o cartaceo digitale o entrambe le cose. Ma vi faccio vedere cosa sono le opere di cui ci siamo occupati. Sono piccole sculture degli oggetti d'arredo ovviamente di elevatissima qualità che trovarono la loro più grande fioritura all'inizio del XVI secolo soprattutto in Veneto e qui infatti vi porto tre esempi molto icastici questo simpatico cavallo al passo, questa conturbante venere e anche questo candeliere perché i bronzetti erano anche e soprattutto degli oggetti d'uso come potevano essere delle lucerne, dei candelieri o dei calamai quindi oggetti anche per la scrittura ed uso ovviamente molto preziosi. Per dare un'idea di come dovevano arredare questa casa vi ho portato questo dipinto molto famoso di Vittore Carpaccio realizzato all'incirca negli stessi anni in cui furono prodotti quelli che vi ho fatto vedere che fa parte di questo ciclo per la scuola di San Giorgio degli Schiavoni e che costituisce in un certo senso una fotografia di uno studiolo, di un umanista del Rinascimento e se infatti noi diciamo approfondiamo meglio l'osservazione troviamo appunto sulla mensolina tra delle medaglie, dei vasetti di non so che cosa però appunto un cavallo, una venere e un candeliere che non sono i nostri però insomma è un modo per dare un po' il sapore di questo, di quello che erano di perché sono nati questi oggetti che poi invece furono collezionati alla strego di rarità o anche di reperti archeologici perché per molto tempo questi oggetti sono stati confusi come oggetti di scavo scusate questa è la sala dei bronzetti come si presenta oggi al secondo piano del museo secondo un allestimento che diciamo risale alla fine degli anni Ottanta quindi il nostro lavoro si è anche preoccupato di riuscire a capire quali pezzi vadano valorizzati rispetto ad altri in vista anche di un nuovo riallestimento in cui insomma si intende, si sta progettando tra questi che sono quasi tutti i 700 pezzi della collezione alcuni sono in deposito però tra questi ci sono dei pezzi che possiamo addirittura far risalire con certezza archivistica alla fine del Cinquecento al 1587 per la precisione in questo nucleo che era stato allestito nella casina di San Marco dal Granduca Francesco I de' Medici questo piccolo nucleo poi ovviamente con le vicende dinastiche è stato ampliato poi nel Settecento è passato sotto il Lorena quindi è finito agli Uffizi fino ad arrivare al Museo del Bargello nel 1866 un anno dopo l'apertura del museo al di là di questo nucleo che è considerato il più antico e quindi anche il più importante a livello mondiale per questo tipo di oggetti proprio perché si può tracciare con fedeltà l'origine di questi bronzi si è aggiunto qualche anno dopo un importante lascito da parte del mercante lionese Louis Caron che però ovviamente è molto meno antico quindi è stato messo a punto è stato formato attraverso delle vicende col mercato antiquariale però ha portato all'acquisizione di importantissimi pezzi tra cui questo bellissimo satiro seduto con conchiglia di Andrea Briosco del Torriccio che è il più importante esponente della scultura in bronzo del Rinascimento nella prima metà del Cinquecento che aveva la doppia funzione addirittura di lucerna nella conchiglia si riempiva con l'olio e poi c'era il lucignolo che fuoriusciva e di calamaio nel vasetto che lui trattiene nella mano sinistra un'altra opera sempre di derivazione Carrand e quindi è questa divinità femminile che è sempre stata vista con un certo sospetto ci sono sempre state molte difficoltà nel riuscire a capire effettivamente che cosa fosse questo bronzetto perché è sempre stato ritenuto un'opera rinascimentale del Quattrocento o addirittura è stata attribuita allo stesso Andrea Briosco del Torriccio grazie al nostro approccio congiunto storico-artistico e tecnico-scientifico siamo però riusciti a capire che questo oggetto in realtà deve appartenere a un'epoca successiva di quella che si è sempre pensato circa all'inizio del Settecento e che probabilmente è stato realizzato in stile grazie allo spunto di qualche reperto archeologico che era stato fatto ora lascio la parola a Teresa che va più nel dettaglio su quello che ha fatto lei Sì, buongiorno a tutte le persone presenti io appunto sono Bruni Teresa e vi parlerò brevemente di quello che è stato l'approccio tecnico-scientifico a questo progetto di schedatura e di approfondimento proprio delle caratteristiche di questa collezione gli obiettivi principali della parte tecnico-scientifica sono stati prima di tutto quello di andare a caratterizzare le caratteristiche morfologiche, tecniche e composizionali di questi oggetti e in seconda battuta quella di ottenere una occasione di catalogazione potenziata quindi acquisire informazioni utili alla fruizione alla valorizzazione di questi oggetti dal punto di vista sia museale che del lavoro degli studiosi che successivamente si troveranno a lavorare su questi oggetti appunto il nucleo comprendeva 160 bronzetti che sono stati tutti schedati di questi 58 sono stati sottoposti all'approfondimento diagnostico e 20 sono stati anche sottoposti a scansione 3D per ottenerne un modello digitale i 160 bronzetti sono stati tutti osservati da me e dai miei colleghi storici dell'arte estraendoli dalle vetrine e quindi potendoli guardare da vicino andando a misurare l'ingombro massimo e il peso per gli oggetti privi di base marmorea e realizzando una documentazione fotografica omogenea di tutti questi oggetti la redazione delle schede tecniche ha quindi una sezione relativa alla descrizione delle caratteristiche tecniche osservabili ad occhio nudo per tutti gli oggetti per 58 di questi bronzetti sono state inoltre realizzate degli approfondimenti di tipo diagnostico con un approccio multidisciplinare quindi andando a combinare diverse tecniche di indagini che vedremo velocemente per 20 bronzetti sono stati appunto realizzati modelli tridimensionali per alcuni solo ottenendo la mesh quindi appunto la struttura morfologica dell'oggetto per altri anche la texture quindi andando a registrare le caratteristiche di qualificazione superficiale a livello cromatico e conservativo una delle tecniche utilizzate è stata la videoendoscopia che ha permesso di ispezionare l'interno di oggetti cavi per andare a individuare caratteristiche tecniche come la presenza di giunti meccanici, armature e elementi distanziatori questo è un esempio, una lucerna che è costituita da diversi elementi e grazie all'ispezione del corpo della lucerna con videoendoscopio è stato possibile capirne la modalità di fissaggio ovviamente sono stati utilizzati dei microscopi in particolare dei microscopi di tipo digitale perché facilmente posizionabili in tutti i punti della superficie quindi anche nei sottosquadri per andare a rilevare sia caratteristiche tecniche quindi tipo lavorazioni a freddo rifiniture realizzate a fine della fusione sia caratteristiche di tipo conservativo quindi in questo caso vediamo per esempio una lacuna della patina è stata utilizzata una combinazione di diverse tecniche di imaging in questo caso riflettografia ultravioletta per andare a individuare integrazioni o residui di colle protettivi e consolidanti non individuabili facilmente ad occhio nudo e è stata utilizzata invece la riflettografia infrarossa per visualizzare tramite il riscaldamento e il raffreddamento della superficie cioè quelle che sono delle zone di discontinuità legate o a caratteristiche tecniche o a caratteristiche conservative quindi per esempio il fatto che si siano effettuate delle fratture o delle cricche successivamente in fase di conservazione degli oggetti la spettroscopia FTR invece è una tecnica che ci ha permesso di ottenere informazioni sulla composizione molecolare del materiale presente sulla superficie caratterizzando o quantomeno iniziando a caratterizzare quindi quelli che sono stati materiali utilizzati per la patinatura e successivamente per la protezione di questi oggetti in fase collezionistica e conservativa abbiamo appunto infine realizzato alcuni modelli 3D per avere un modello consultabile anche eventualmente in futuro dal visitatore considerando che comunque si tratta di oggetti che sono chiusi all'interno di vetrine quindi il punto di vista è forzato dalla loro collocazione all'interno della vetrina con un modello 3D è possibile invece ispezionare anche il retro ed eventualmente l'interno di questi oggetti parliamo brevemente di un caso studio giusto per rendervi l'idea dei risultati ottenuti anche per farvi capire un po' il diverso approccio dell'occhio dello storico dell'arte invece dell'occhio del tecnico di Agnose questa è una bellissima statuetta che è documentata appunto in San Marco già nel 1587 quello che vi ho citato prima raffigura appunto un tritoneone reide e per questo tipo di oggetti il problema principale da un punto di vista storico ed artistico è quello delle copie e delle derivazioni perché essendo molto piccoli ovviamente una grande offerta una grande domanda da parte di umanisti collezionisti e di altri interessati c'erano delle tecniche apposite per riuscire a fare dei calchi e poi a rifondere la statuetta quindi da un punto di vista storico-artistico per comprendere qual è la prima la più antica o diciamo così il prototipo è stato necessario fare con innanzitutto rendersi conto del numero di queste copie quindi andando a spulciare tutte le collezioni esistenti tutte le segnalazioni acquisire delle immagini dei dati per poi riuscire attraverso un'analisi qualitativa ma anche poi tecniche per la mostrera Teresa la freschezza diciamo del maestro o comunque quella più rinascimentale nel caso del titolo Nereida vi porto solo sei esemplari due conservati a New York uno a Londra una mosca a Napoli a Dresda e attraverso il confronto di alcuni dettagli si può comprendere come il prototipo l'esemplare del Bargello sia forse il prototipo appunto perché si sente proprio come il maestro gli abbia toccato la superficie in un modo molto più fresco molto più alato molto più originale rispetto magari a quella della statuetta del metropolitano di New York che insomma perde anche nel dettaglio è molto più grossolana però c'è tutta una parte tecnica sì diciamo che la peculiarità dei bronzetti è appunto questa possibilità di essere riprodotti in maniera quasi seriale e questo crea ovviamente una complessità davvero difficile da sciogliere nell'individuazione diciamo del primo esemplare o del modello rispetto ad una serie di oggetti nel nostro caso vi ho riportato la mappatura relativa alle caratteristiche tecniche e anche conservative individuate per questo oggetto che sono state riportate appunto e verranno riportate all'interno della scheda delle opere perché ci permettono di individuare degli elementi che rendono merito a questo esemplare in particolare facendoci capire che è stato rilavorato per esempio a freddo una volta conclusa la fusione e questa è una caratteristica che gli dà valore rispetto agli altri esemplari che conosciamo perché ci avvicina al lavoro proprio dell'artista che invece per quanto riguarda la realizzazione dei bronzetti si perde nel contesto della fonderia cosa vuol dire? vuol dire che un esemplare può essere riprodotto più volte e con cura sempre minore sia nel metodo con cui viene realizzato che nelle caratteristiche poi di dettaglio e di qualificazione superficiale che gli vengono apportate alla fine questo invece è un caso dell'ispezione dell'interno dell'oggetto che ci ha permesso di capire che comunque si tratta di un esemplare realizzato per metodo indiretto si dice e che quindi viene da uno stampo questo è un elemento che ci fa capire che ha avuto comunque una importanza perché è stato rilavorato e quindi ha una qualità superiore agli altri ma non è da escludere che ce ne siano altri esemplari derivati in giro, in collezioni, museali o chissà dove noi appunto ci auguriamo che sia possibile continuare questo lavoro con altri approfondimenti perché appunto la materia è molto complessa e speriamo che questi risultati ottenuti diano informazioni e elementi aggiuntivi utili sia alla valorizzazione che alla fruizione di questi oggetti per il museo, per gli studiosi e anche appunto per i visitatori vi ringraziamo per l'attenzione grazie 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 grazie